dopo 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 بعد dopo مثلا dopo la scuola vado a casa dopo la scuola vado a casa dopo la scuola vado a casa dopo cena facciamo una passeggiata dopo cena facciamo una passeggiata dopo cena facciamo una passeggiata dopo ira pass sẽ querem una passeggiata FIAL يتجول FIAL يتنزه أو يقوم بجول Dopo cena facciamo una passeggiata PRIMA D PRIMA D PRIMA D QABLA PRIMA D مثلا PRIMA DI DORMIERE LEGGO UN LIBRO PRIMA DI DORMIERE LEGGO UN LIBRO PRIMA DI DORMIERE LEGGO UN LIBRO QABLA NUUM AKRA U KITABEN PRIMA DI QABLA DORMIERE FIAL ANNUUM LEGGO ANA AQRAU MINAL FIAL LEGGERE FIAL YAKRAU UN LIBRO KITAB PRIMA DI DORMIERE LEGGO UN LIBRO MISAL AKHAR PRIMA DELLA FESTA DEVO COMPRARE UN REGALO PRIMA DELLA FESTA DEVO COMPRARE UN REGALO PRIMA DELLA FESTA DEVO COMPRARE UN REGALO قبل الحفلة يجب علي أن أشتري هدية PRIMA D قبل LA FESTA الحفلة DEELLA هي في الأصل DE D مع أدات التعريف LA D مع LA تصبح DELLA DEVO يجب علي MINAL FIAL DOVERE FIAL ALWUJUB FIAL YAJIBU COMPRARE FIAL ASHIRA DEVO COMPRARE YAJIBU ALAYA EN أشتري UN REGALO هدية PRIMA DELLA FESTA DEVO COMPRARE UN REGALO POI 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 SOMMA POI مثلا FACIO I COMPITI POI GUARDO LA TV FACIO I COMPITI POI GUARDO LA TV FACIO I COMPITI POI GUARDO LA TV AQUMU BIWAJIBATI THUMMA UŞEHDU التلفاز FACIO AQUM I COMPITI ALWAJIBAT FACIO I COMPITI AQUMU BIWAJIBATI POI THUMMA GUARDO UŞEHDU MINAL FIAL GUARDARE FIAL YUŞEHDU LA TV FACIO I COMPITI POI GUARDO LA TV MISEL AQAR GUARDO UN FILM POI VADO A DORMIRE GUARDO UN FILM POI VADO A DORMIRE GUARDO UN FILM POI VADO A DORMIRE UŞEHDU UŞEHDU FILMEN THUMMA A DORMIRE ULAN NUUM GUARDO UŞEHDU UN FILM FILM POI THUMMA VADO A DORMIRE ULAN NUUM GUARDO UN FILM POI VADO A DORMIRE ORA 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 Mathelen, adesso guardo la tv Adesso guardo la tv Adesso guardo la tv L'an e ne uxehidu tilfez Adesso l'an Guardo e ne uxehidu La tv attilfez Adesso guardo la tv Yumkin anna qula idhan Ora guardo la tv L'an e ne uxehidu tilfez Mythal aqer Ora parlu galtilefono kon il mio amiko Ora parlu altilefono kon il mio amiko Ora parlu altilefono kon il mio amiko Adesso Al'an anna et ahadhaf Al'an anna et ahadhaf Maa sadiqi Ora el'an Euro nخul Adesso Parlu anna et ahadhaf Altilefono al'hathaf Kon maa Ik l'amiko sadiqi Ora parlo al telefono con il mio amico Subito 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 Allan Au Alla al fawr Au che velica Fawran Subito Metalan Vieni qui subito Vieni qui subito Vieni qui subito Ta'ala huna al fawr Ta'ala huna halan Vieni ta'al Au ta'ali Qui huna Subito al fawr Fawran Halan Vieni qui subito Mitel akhar Au fame Voglio mangiare subito Au fame Voglio mangiare subito Ana jai'a Uridu an akul halan Au fame Ana jai'a Voglio uridu Mangiare Fihal al akil Subito Halan Au fawran Alla al fawr Au fame Volio mangiare subito Tra'poco 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 Bada khalil Bada khalil Au kariiba Tra'poco Mothla Torno tra'poco Torno tra'poco Torno tra'poco Torno Torno Tra'poco Bada khalil Torno tra'poco Finisco il lavoro tra poco Finisco il lavoro tra poco Finisco il lavoro tra poco Sأنهي العمل بعد قليل أو Sأنهي العمل قريبا Finisco Sأنهي أو أنهي من الفعل finire فعل ينهي Il lavoro العمل Tra poco بعد قليل أو قريبا Finisco il lavoro tra poco Tardi 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 متأخر أو في وقت متأخر Tardi مثلا Tardi Tardi مثل آخر Tardi 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 presto, beaker presto مثلا stasera vado a letto presto 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 Grazie a tutti.